E bella ragazzi oggi sono qui con la seconda puntata della top 10 delle intro che troviamo nei vari canali di vari youtuber Spero ragazzi che vi piaccia questo video, un video diverso dai soliti gameplay Mettete un bel mi piace, iscrivetevi e commentate, ora inizia il video, bella! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti